Con l'inizio delle operazioni di montaggio delle tribune per la giostra del Saracino si perimetra diversamente lo spazio per i ristoratori, come vi state organizzando? Sicuramente avere un cantiere davanti nella piazza, mentre uno mangia, non è sicuramente il massimo. Diciamo che quello che perdiamo oggi speriamo di riprenderlo in futuro con la grande pubblicità che porterà questa manifestazione. Alcuni commercianti dovranno chiudere del tutto l'attività, ad esempio quelli che si trovano in corrispondenza della tribuna che verrà posizionata verso Piaggia San Martino. Dovremmo rimanere chiuse perché ovviamente si montano proprio qui davanti e comunque il disagio è tutta la settimana. Quando anche tutta la settimana è da inizio ai lavori perché come state vedendo la piazza è un cantiere e sono d'accordo, i lavori vanno fatti. Quello che io mi chiedevo è perché non usare questo cantiere per pubblicizzare e far conoscere la giostra. Con il montaggio della tribuna anche sulla parte finale di via di seteria ci saranno anche novità per quanto riguarda le attività di questa via. Voi ristoratori cosa sapete ad oggi? Niente che ad oggi noi dal 27 fino all'8 settembre dobbiamo togliere i tavoli esterni e quindi sospendere la somministrazione esterna in sostanza. Siamo in attesa di capire se c'è la possibilità di rispettare sì le normative covid richieste per l'organizzazione della giostra ma allo stesso tempo riuscire a far convivere con le attività commerciali che ci sono in questa strada. Grazie Grazie